99. Abbiamo dato questo titolo alla puntata della rubrica Mani Nobiscum. Credo che tutti facilmente, oltre che al numero, venga in mente la parabola di Gesù, del pastore. Del pastore che ha 100 pecore, gliene è andata persa una, allora ha portato a casa le 99, le lascia lì nel recinto tranquille e via, che va in cerca della pecora perduta. Credo che è capitato a tanti di noi, quando c'era un pochettino in ogni famiglia, c'era la mucca, la pecora, eccetera, di dover andare a cercare, a correre a volte, a fare dei chilometri per queste pecore matte che si perdevano in giro invece di rientrare la sera. È capitato anche a me e lo ricordo volentieri. E qui invece il Papa, adesso Papa Francesco, se ne esce con una delle sue espressioni significative è così molto comprensibili, oltretutto, dice i preti d'oggi, le comunità cristiane d'oggi rischiano di avere una pecora nel recinto e di vedere che 99 si sono un po' disperse, usiamo questo termine per stare alla parabola del Vangelo. Per carità non vorremmo fare i drammatici, però è vero, è in atto una fatica nella fede, l'appartenenza alla parrocchia, alla comunità non è così scontata, persone che, sì, arriveranno qualche volta in certe occasioni alla chiesa e alla propria parrocchia, poi in genere non si vedono più. Ecco, c'è proprio il rischio di dover ribaltare questa parabola di Gesù sull'oggi. Don Riccardo, tu che sei un saggio e che sei un parroco attento dopo essere stato bravo curato ad Alzano, e come la vedi un po' questo ribaltamento? Perché poi c'è sempre il rischio delle frasi fatte. Vogliamo un momentino prenderla in considerazione senza che diventi un'espressione un pochettino esasperata anche questa? Non lo so, io, quando vado a ripensare anche i miei anni di formazione in seminario, ricordo sempre, e anche il corso riso sulle labbra se vuoi, che ogni corso, soprattutto quelli a taglio più filosofico o teologico, non necessariamente biblico, partiva sempre con un buon capitolo che diceva la crisi di questa nostra epoca, la crisi dell'ethos postmoderno, tanto che dopo il primo anno, quando anche studiavi sempre un po' all'ultimo minuto, perché mi capitava anche questo, dicevi bene, questa parte qui l'ho già sentita tante volte, la so già, partiamo subito dalla parte successiva, così economizziamo un po' di tempo. Ecco, per dire che il pianisteo non credo serva a niente. Se anche è 40 anni che diciamo che siamo in crisi e che c'è questa crisi, e più passa il tempo e più ne vediamo purtroppo anche gli effetti drammatici, una crisi di valori, una crisi di fede, una crisi di appartenenza, forse non siamo poi stati abbastanza rapidi, veloci, non dico nel cercare di arginare questa crisi, ma nel cercare di far sì che quelle pecore che sono parte ancora del recinto, anche se l'immagine delle pecore forse non è molto bella, anche se appartiene al Signore, perché noi gli diamo sempre una connotazione un po' negativa di chi va nel gregge in maniera quasi non critica, ma penso che sia più da vedere come legame nei confronti del pastore che è il Signore, che non invece come sentirsi pecore da parte del gregge. Ecco, mi sembra che da una parte dobbiamo guardare con attenzione anche al fatto, mi rendo conto anche io nelle mie comunità, che c'è una disaffezione drammatica anche all'Eucarestia della Domenica. D'accordo, ci saranno alcune parrocchie dove magari questo si avverte di più, laddove invece si avverte un po' di meno, però è un dato anche abbastanza preoccupante. Però d'altra parte mi dico anche che noi come comunità, ma anche come impostazione globale, non siamo neanche stati capaci tanto di intercettare un po' questa cosa, anche questo cambiamento di costumi. Mi dico anche, nonostante ci lamentiamo che la gente va poco in chiesa, vanno poco a messa, noi continuiamo ad una gestione delle nostre parrocchie come se fossimo ancora nella civiltà contadina di 40 anni fa o di 50, perché comunque la domenica mattina tutte le messe possibili e immaginabili, una magari per misericordia nel pomeriggio, quando le nostre famiglie tante volte fino alle mezzogiorno della domenica dormono perché hanno tante forze da recuperare. Questo per dire che è vero, ci sono tante cose che cambiano, ci sono dei segnali di crisi, però alcune volte sembra che anche noi preti, ma come impostazione generale, non sto dicendo il parroco A piuttosto che il parroco B, andiamo a rimpiangere ancora gli anni in cui il mondo era radicalmente diverso da come è oggi. Si usano queste parole, i vicini e i lontani, che poi non si sa bene quali sono effettivamente i vicini e chi sono effettivamente i lontani, perché a volte troviamo delle persone che apparentemente sembrano lontane dalla fede, dalla vita di Chiesa e poi sono dentro in modo mirabile. E ci sono anche dei vicini a volte che se si allontanassero un tantino forse non guasterebbe, perché vuol dire che riprenderebbero in mano un po' più seriamente anche la propria vita di fede, la propria consapevolezza oltre l'abitudine, per carità, che è una buona cosa l'abitudine, ma che rischia a volte anche la muffa. Viene da pensare, Riccardo, il fatto che dice anche il Papa di uscire, la Chiesa in uscita, la Chiesa che va alle periferie umane, eccetera, eccetera, il fatto della missione, che poi è un fatto determinante per la Chiesa, quella di pensare a chi non conosce il Vangelo o non lo riconosce più, non c'è però un po' il rischio anche di non essere più attenti a quelli che sono, passatemi il termine appunto, i vicini, per cui rischia che manca la formazione dei vicini che devono animare i lontani. I lontani intanto non sappiamo bene come pescarli, per cui rischiamo che abbia perso i lontani e rischiamo di perdere, ma soprattutto di perdere il senso e l'appartenenza e la consapevolezza anche dei vicini. Allora cominciamo un pochettino. Cosa dovremmo fare? Perché i vicini restino vicini nel senso più bello e più significativo del termine in ordine alla fede e alla vita della parrocchia. Sembra proprio che il grande bisogno di tutti, innanzitutto è ragione, non è facile, ma forse anche sciocco, definire vicini e lontani in un'ottica di fede solo per il fatto che magari frequentano la parrocchia, frequentano la chiesa o no, perché effettivamente alcune volte, come dicevi giustamente, si ha la sorpresa di vedere persone che pensavi lontano e invece vedi che dietro ci sta anche un bel discorso di fede, anche se magari in maniera un po' diversa da come siamo soliti pensare la fede. Ecco, questi credo che siano un po' i prodigi del Signore che sa appunto suscitare figli anche dalle rocce, quindi è capace di arrivare al cuore indipendentemente, potremmo dire, anche da quelli che sono i nostri progetti, i nostri piani pastorali. Ecco, io credo che forse una cosa che non dovremmo mai perdere di vista nei confronti dei vicini e dei lontani è il mettere in evidenza come l'esperienza di fede sia qualche cosa estremamente semplice. Ecco, dove semplice non intendo banale, però semplice. La nostra vita è complicata per tante cose, in tanti ambiti, dobbiamo sempre essere pronti, preparati, aggiornati. Ecco, la fede man mano la approfondisci, man mano la vivi con verità ti rendi conto che ti rende la vita semplice, perché alla fine ti attacca ancora di più a quelle dimensioni della tua umanità che ti fanno essere anche veramente uomo o donna, secondo se sei uomo o donna, perché oggi bisogna mettere in evidenza anche quello. Ecco, mi sembrerebbe proprio di dire che forse il tratto più bello che dobbiamo avere come comunità e verso i vicini e verso i lontani, verso chiunque incontri, verso il tuo prossimo. Non parliamo di vicini e di lontani. È quello di metterti a fianco, di condividere un tratto di strada insieme, con molto rispetto per quello che l'altro sta vivendo e con la capacità di ascoltarsi. Mi viene in mente sempre quel brano di Vangelo che mi piace tanto, dei discepoli di Emmaus. Gesù che cammina a fianco di questi qui, che sono tutti presi dalla loro rabbia, dall'impressione di avere perduto tutto, di avere seguito la persona sbagliata, Gesù non impone la sua presenza. Cammina insieme, li ascolta, parla con loro e poi quando sono maturi finalmente scendono le fette di salame dagli occhi di questi due che si rendono conto che hanno camminato con il Signore. Pensa che bello se come parrocchie, come comunità avessimo questa capacità di mettersi a fianco dell'uomo che cammina con molta discrezione, senza volerti tirare per forza dove sono io, dove penso di essere io, condividendo qualcosa di bello di te, ascoltandoti, parlandoti e magari alla fine quando anche tu non ci sei più ci sarà la sorpresa di dire, pensa però, il Signore ha camminato a mio fianco. Se scoprissimo questo avremmo già fatto tanto. Resta poi comunque il fatto che ecco tante persone vivono un po', come si usa dire, sulla soglia della comunità e della fede. Ci sono di quelle che guardano da lontano, ci sono di quelle che stanno camminando all'opposto e che addirittura magari sbattono, come si dice, la polvere dai piedi contro la Chiesa perché hanno qualche cosa, qualche remora e giù di lì. Cioè le nostre parrocchie come possono porsi? Perché noi diciamo la missione, uscire dalla Chiesa, andare incontro a tutti. Ecco, nella concretezza delle nostre comunità, senza pensare al mondo intero, a cui pure dedichiamo il mondo missionario di tanti che si dedicano, ma nelle nostre comunità, dove oggi effettivamente io credo ci sono persone che vivono questa diversità o di appartenenza o di disamore alla fede e alla propria parrocchia e alla Chiesa. Come possiamo porci? Che cosa si può mettere in atto con persone magari che immediatamente non riesci a incrociare o che incroci soltanto in qualche occasione? Ecco, è chiaro che il cuore della Chiesa è attento a tutti perché il Vangelo va detto o ridetto a tutti. Come mettere in atto? Che cosa mettere in atto? Per poter dire anche a persone, virgolette, un po' lontane o che guardano un po' da lontano, dalla soglia, che il Vangelo appunto è per la vita e rende la vita anche più semplice e più vera. Ma anche qui penso che nessuno può essere tanto presuntuoso a dire di avere la ricetta vincente. Però mi sembrerebbe, Don Leone, che abbiamo ancora nelle nostre parrocchie, dico ancora, non so se questa cosa continuerà, nei momenti in cui intercetti anche magari quella comunità che chiamiamo quei cristiani che sono cristiani perché battezzati, magari neanche battezzati, ma anche se non fa parte della comunità eucaristica che si ritrova tutte le domeniche per l'eucarestia. Quali sono questi momenti? Io penso, mi rendo conto, qua in Alta Valle, molto di più che in Bassavalle dove vivi tu, i momenti dei funerali sono momenti forti dove uno si sente chiamato a partecipare anche alle liturgie funebre. E quali sono momenti importanti in cui deve risuonare l'annuncio nel Dio di Gesù Cristo e in Gesù Cristo morto e risorto. Penso anche abbiamo praticamente la quasi totalità di famiglie che chiedono il battesimo per i loro figli, a meno che ci sia dell'appartenenza religiosa diversa, ma altrimenti è difficile che qualcuno, anche di quelli un po' sulla soglia, non ti chiedono il battesimo per i figli o non chiedono alla comunità la prima comunione, la cresima. Ecco perché piuttosto che colpellivorizzarli dovete venire, fare di qua, fare di là, non usiamo queste occasioni anche per dire, guarda, la Chiesa cerca di essere tua compagna di viaggio, sei parte della Chiesa anche tu. Penso anche quante volte magari, penso quando magari celebriamo la riconciliazione come confessori, no? E anche come penitenti perché c'è anche quello. Magari persone che sono anni che non si accostano alla confessione, poi per qualche motivo particolare li arrivano e magari nel dialogo emerge come il Signore non li ha mai abbandonati, alla fine è come il Signore si sia sempre preso cura di loro e magari aspettava quel momento lì per regalare loro la certezza del perdono. Ecco abbiamo ancora delle occasioni preziosissime che anche qui senza arrivare alla pretesa di tornare a un cristianesimo sociale come magari poteva essere un po' di tempo fa, ma io mi chiedo anche se si è mai esistiti questi tempi. Sì, forse c'era la frequenza, ma non so, forse la consapevolezza è maggiore nelle persone oggi che non qualche decennio fa. Quindi ecco, io direi usare un po' queste occasioni preziose che ci sono per dire ecco, la Chiesa è tua compagna di viaggio, non si permette di giudicare nessuno, semmai riconosce dove stia il male, ma perché tu possa liberartene e ripartire. Iniziamo praticamente il nuovo anno pastorale nelle nostre comunità. L'anno pastorale non finisce mai proprio perché è un anno, però è chiaro che il ritmo dell'estate cambia anche nelle nostre parrocchie, nella vita dei gruppi, nella catechesi, eccetera, eccetera. E adesso riprendiamo un po', sia in bassa valle che in alta valle, credo, il cammino del nuovo anno pastorale. È chiaro che quanto tu stai dicendo entra dentro proprio come tessuto, come rete ecco, che fa esistere l'anno pastorale. Pastorale proprio perché parla di un'attenzione, parla di un accompagnamento, come tu dicevi, parla di un essere assieme nel camminare sapendo che siamo guidati da Gesù Cristo, illuminati dalla sua parola, sostenuti dai sacramenti. È importante però, mi pare, Don Riccardo, che in questo discorso che si stava facendo entrino, e quest'anno consiglio della famiglia, credo molto di più in evidenza, soprattutto il compito della famiglia e della vita familiare. Soprattutto là dove si dice che i genitori hanno il compito di annunciare ai figli, di trasmettere la fede ai figli. E anche qui tanti si dice che non c'è più la trasmissione della fede, nelle nostre famiglie non passa più niente. I genitori guardano nello zaino dei figli se c'è dentro quel che serve per lo sport, per la scuola, per questo, perché l'hotel, e si dimenticano di guardar dentro se ci hanno messo anche qualcosa di significativo per la vita, per il loro cammino, per la loro fiducia e speranza nella vita, per la loro responsabilità nella vita, nello zaino, eccetera. Cioè viene fuori effettivamente che questo discorso dell'educazione alla fede passa però molto attraverso le famiglie. E anche qui, senza essere né gente che piange inutilmente, né gente che vuol sorridere stupidamente, dobbiamo guardare in faccia la realtà che sta cambiando un po' anche la realtà delle nostre famiglie, anche dal punto di vista educativo e di educazione alla fede. Cambia tutto, cambiano le famiglie, cambia il modo di essere famiglia. Guardavo proprio nella mia parrocchia più grossa, ormai è tre anni che sono qui, ci guardavo proprio l'altro giorno, quando abbiamo compilato un altro, solo tre pagine del registro dei matrimoni, in tre anni, parrocchia di villa, tre matrimoni religiosi. Sono segnali che bisogna guardare anche con attenzione, senza stracciarsi le vesti, ma con molta attenzione per dire un po' tutto questo cambiamento che è in atto e non sempre è un cambiamento verso il bene, verso il bello, ma alcune volte è un cambiamento che dice anche un impoverimento in tanti sensi. Ecco, la vicinanza alle famiglie può essere sempre quella di accompagnare, magari anche nei momenti più importanti della vita della famiglia. Credo anche il, non lo so, il cercare davvero di far emergere la bellezza di una vita cristiana vissuta con estrema semplicità. Vedi Don Leone, io sono prete da 15 anni e penso anche, un po' no, tu dicevi siamo all'inizio dell'anno pastorale, ai tanti temi che in questi anni si sono, sono stati proposti alle nostre comunità, vuoi dal piano pastorale diocesano, pensiamo ai grandi piani del Vescovo Amadei che chiedeva di ripensare un po' tutto l'agire della nostra pastorale e anche con saggezza perché si rendeva conto da buon storico che eravamo arrivati a un momento di grosso cambio. Ma poi pensiamo anche ai grandi momenti della Chiesa Universale, il Giubileo del 2000, adesso siamo alla vigilia di un altro Giubileo e poi i tanti anni, le tante occasioni che vengono suggerite. Ecco, io alcune volte mi dicevo ma nessuno ha pensato a un anno pastorale dove si dice fai bene le cose di sempre, fai bene il tuo anno liturgico con il tuo avvento, il Natale, le celebrazioni di una parrocchia senza avere la smania di cacciare dentro tante cose e di formare, di preparare e l'incontro di qui e l'incontro di là e questo tema dobbiamo inserirlo, allora lo mettiamo dentro in quella settimana particolare di predicazione. Ecco, far bene le cose di sempre, parlare il linguaggio del Vangelo. Il Signore ha usato sempre un linguaggio molto semplice, molto piano, parlava in parabole, parlava con le cose che la gente capiva ma perché non si perdesse di vista il legame con il Padre Eterno. Io non so dire come però vorrei tanto che qualcuno mi desse, ci desse un po' una mano a trovare questo come perché tutti possano sentire e gustare questa semplicità del Vangelo. Ecco, proprio questa essenzialità anche del Vangelo, essenziale nel senso che è semplice, ma essenziale perché è necessario per la vita, non per altro, essenziale perché dice quello che giova alla nostra pace, alla nostra speranza di oggi e al nostro orizzonte di domani. Ecco, crediamo che lo sforzo che sta facendo anche questo Papa, come ha fatto anche i precedenti, anche Benedetto XVI, con richiamare ai valori forti della nostra fede, per dire in fondo come tutto ci riguarda di quello che ci viene annunciato dal Vangelo e che vivere secondo il Vangelo non è da sciocchi, non è da gente sorpassata, ma è da gente che si lascia illuminare dal Signore che sa bene quello che giova a noi e vivere secondo il Vangelo e vivere appunto la vita buona. Quello che dice Gesù, sono venuto perché abbiate una vita vera e abbondante e gioiosa. Ecco, se si riesce a far percepire da parte di chi già sta vivendo, sta tentando di vivere la fede nella propria comunità, nella propria parrocchia, da parte di chi guarda un po' e cerca di percepire che senso ha fare il cristiano, che senso ha correre dietro a Gesù Cristo, probabilmente aiuteremmo tutti quelli che sembrano più vicini e quelli che sembrano più lontani, tutti a metterci al seguito di Gesù Cristo e l'anno pastorale vuol proprio aiutarci in questo. La comunità c'è ed è amica della nostra vita perché ci aiuta incrociando Gesù Cristo a dare senso, fiducia, speranza alla vita. Grazie Don Riccardo. Grazie a voi che ci avete seguito e naturalmente a tutte le nostre comunità, a tutte le nostre famiglie, l'augurio di un buon cammino dentro questo nuovo anno pastorale e come sempre anche l'augurio di una buona domenica.